Dopo una partita difficile, ma vinta con convinzione e soprattutto la tua prima apparizione ufficiale in uno stadio che finalmente può respirare il calore del pubblico. Sì, avevo tanta voglia di giocare, era tanto che ero fermo. Dopo il fallimento del Chievo non già facevo più, sinceramente, stare a casa. E appena ho saputo dell'interessamento del Benevento sono subito voluto venire qua perché è una bella piazza, importante, anche per me è un bel salto. Sono pronto per fare bene in questa stagione. Possiamo dire che ti sei fatto trovare subito pronto. Tra l'altro sei entrato anche in un momento difficile per la squadra perché al di là di quello che ci racconta il risultato, in realtà il Benevento ha faticato contro il Cittadella, soprattutto nel primo tempo, ma anche nella ripresa, nei primi 10-15 minuti. Per cui non era semplice comunque prendere il posto di Calò in quel momento. Sì, lo sapevamo che era una partita molto difficile con il Cittadella che negli ultimi anni è sempre arrivato comunque play-off, semifinale, finale. Quindi è una squadra esperta che sa quello che deve fare. Noi sapevamo che era una partita difficile, l'abbiamo preparata bene e comunque io mi sono fatto trovare pronto ed è questo che devo fare. studio. Mattia, benvenuto anche da studio. Ti chiedo, dicevi, sono rimasto fermo per alcune settimane, però possiamo dirlo, dai rumors si parlava anche di interessi dalla massima serie, in particolar modo sempre qui vicino della Salernitana. Quindi nella scelta ha prevalso il progetto Benevento? Sì, sicuramente il progetto Benevento era, possiamo dire, un progetto migliore, comunque confermarsi per me in Serie B era molto importante e forse la Serie A era un salto un po' troppo grande in questo momento. step di crescita per l'obiettivo, poi futuro. Billy Nuzzolillo per te. Ciao Mattia, complimenti per l'ottimo impatto che hai avuto nel corso della gara. Volevo chiederti, i tifosi chiaramente vogliono comprendere un po' le tue caratteristiche al di là di quello che si è visto stasera. Tu sei un play che però sa adattarsi molto bene a fare la mezzala. A chi mi chiedeva un po' le tue caratteristiche? Io ho detto che per certi versi somiglia un po' a Locatelli che si è adatto un po' in tutti i ruoli nella zona centrale del campo. Sei d'accordo su questa definizione? Oppure magari vuoi dirci tu come ti vedi? E magari a chi ti paragoni come calciatore, come caratteristiche? Sicuramente Locatelli è un giocatore che mi assomiglia perché anch'io sono sempre giocato play davanti alla difesa però mi ha dato benissimo a giocare a due l'anno scorso col Chievo giocavano 4-4-2, giocavano i due mediani mezzala l'ho fatta un po' di meno però qualche partita l'ho fatta anche mezzala comunque sì, Locatelli è un paragone che ci può stare. Sonia, a te? Come giocatore. Come caratteristiche. Hai conosciuto poco Caserta perché effettivamente non sei da tanto però secondo te quanto tempo ci metterai per capire effettivamente ciò che chiede questo mister anche sulla base delle tue caratteristiche ne parlavamo prima con Billy. Il mister è molto preparato, molto chiaro su quello che vuole spero il prima possibile però comunque già anche se ho fatto pochi allenamenti inizio a capire bene quello che vuole e a come ci sarai sì, sì, certo perfetto ringraziamo Mattia Viviani grazie mille a voi in bocca al lupo